Alle 11.30 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti in via 1000 ad Arzignano per un'auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita all'ospedale. L'auto prima di rovesciarsi e fermarsi contro il cancelletto di un'abitazione ha strisciato un'auto parcheggiata. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.